Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, scusate se non si vede tanto bene, ma spero mi sentiate comunque, perché fa caldo, quindi sono tutta rattoppata, come sempre. Allora, che cosa andremo a parlare in questo video? Allora, cercherò un titolo per questo video, perché poi non so come chiamarlo, ma lo troverò. E' un video su dei cambiamenti che subirà il mio canale man mano, subito, in base a quando pubblicherò questo video. Allora, la prima cosa è che adesso è edito, finché riesco, 4 video a settimana, ovvero il lunedì, il mercoledì, il venerdì e una domenica, ovvero un giorno sì e un giorno no, tranne quello di domenica e lunedì, che sono consecutivi, ma essendo nell'arco di una settimana, è come se fosse un giorno sì e un giorno no, più o meno. Normalmente, salvo problemi, dovrei editare e pubblicare i voti lunedì la day, o comunque video rinnerenti a appunto cosa mangio, o se riuscirò a fare anche dei video dove preparo la roba, perché alcuni mi hanno chiesto di fare delle videoricette. Invece, in mezzo alla settimana, sono i video comunque classici che faccio, o di recensione, o di shopping, o magari qualche video che mi pare in mente, video log su alcune tematiche. Mentre invece la domenica, ho deciso io di andare alla notte a tre, di fare dei video insieme e di pubblicarli la domenica. Visto che comunque quelli ci vogliono un po' più di tempo per editarli alcuni, perché magari dobbiamo metterci delle immagini e rimontarli, li abbiamo lasciati di domenica, sperando così di avere un po' più di visualizzazioni. Se riusciremo, magari poi faremo delle live, però per adesso nessuno di voi riesce a farle, perché purtroppo io ho un telefono che fa schifo, infatti si sta anche rompendo. Quindi per quello a volte i miei video magari sono molto più di scherza qualità, magari non c'è video di presentazione, a volte magari ci sono degli errori, perché purtroppo il telefono si sta rompendo. Poi per il resto, ovviamente farò poi un altro video se riuscirò, però lo preannuncio da adesso. Quando poi a settembre ci sarà la scuola, se riusciremo faremo dei video molto prima, perché ricordo che tutti i video che vedete sono pianificati, quindi può darsi che un video che vedete oggi è stato però girato magari anche due settimane prima, anche tre, anche di più, dipende. E' raro che qualche video siano fatti, tipo last minutes, o in giornata, o nella settimana, perché è molto raro, dato che comunque ci chiede gli impegni, queste cose qua, quindi non è che noi ci mettiamo giorno per giorno a fare i video, ma ci mettiamo magari in un'unica giornata o in vari giorni a fare più video, o l'altra li montiamo in altri, poi li pianifichiamo per tre settimane. Quindi non so quando mettere questo video, se riuscirò lo cercherò di editarlo, di pubblicarlo in tempi ragionevoli. Comunque, per il resto non mi odiate se pubblico quattro video a settimana, ma se avrò per aumentare comunque le visualizzazioni, e poi comunque ho molti temi adesso, quindi devo avere anche un giorno in più per poter pubblicare. Dicevo, quando inizierò la scuola ovviamente non riuscirò a pubblicarli così tanti, perché se riesco a girarli li metto sempre ovviamente quattro settimane, se non ridurrò il tempo magari li metterò solo due o tre, e se riuscirò farò delle live ovviamente, se avrò tanto su terreno, perché appunto a settembre inizio la quinta, quindi l'ultimo anno, quindi se magari riuscirò a mettere qualche video online, quando non ci caricheranno di roba, sarà già tanto, quindi questo qua è già una cosa che pronuncio, tanto comunque lo dirò se avrò poi problemi per lo studio, comunque i video che andrò a fare saranno più o meno gli stessi, perché comunque ho tratto vari tipi di tematiche, ho ripreso, non so quando uscirà il video sulla tematica sessuale, ho ripreso di nuovo il tema perché è andato bene, un po' non sarei più riuscita a continuarlo, però adesso dovrebbe uscire poi uno nuovo, e poi ho fatto altri video diversi, dove uno vi presento mia sorella, che me l'avete chiesto, e quindi l'ho fatto, altri sono nel video appunto insieme a Andra93, altri ancora saranno sempre sulle stesse tematiche, e alcuni saranno magari, se riuscirò, diversi, in base a come sarà la mia disponibilità, anche in caso perché non vivo da sola, quindi se riuscirò, cerco di fare i video, tutto il resto, io spero che voi apprezzate i miei video, anche se siete in pochi a guardarli, non importa, l'importanza ha pochi in buoni, e spero che magari con settembre le visual aumenteranno, perché penso sono un po' diminuita, ma penso che perché tutti sono in vacanza, tranne io, giustamente, quindi vi auguro buona estate a tutti, buone vacanze per chi va in vacanza, per chi è al mare, e niente, ci vediamo poi in un prossimo video, o non faccio durare questo video troppo lungo, perché non ho tanta memoria, poi cerco di, vorrei cercare di editarlo, se riesco, se no lo manderò così. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.